Siamo giunti al tuo compleanno, ragazze per cortesia siamo giunti al tuo compleanno, ora è un momento importantissimo per te, hai da leggere qualcosa di importante e fondamentale, impegnati e facci sapere, ragazzi si legge, è importante. La vita ci insegna che bisogna sempre volare in alto, più in alto dell'invidia, del dolore e della cattivezza, più in alto delle lacrime e dei giudizi, a 61 anni capisci che questa è la strada giusta da percorrere, dove certe parole non possono più offenderti e certi gesti non potranno più perdere, la sincerità forza sempre a volare in alto, dove si diventano persone belle come tu sei. Auguri dei tuoi amici, con il cuore, Mariella, Lucia, Anna Maria, Nelio, Anna, Pina, Pina, La Rossa, Concita, Anna Papa, Pina, Cinzia e Luciano. Grazie, ragazzi. E vogliamo fare anche la nostra, vogliamo fare. E noi abbiamo bene. Te lo mettiamo bene, andate bene. Conce, 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 sempre conce. E' scemo, ma che conna meglio. Luciano, va bene, ma c'è un primo e poi il pazzolettino. Ok, ciao, ciao. Sì, sì, sì. Buona pornografia! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.